Allora Marcello, partiamo dalla nota positiva. Ancora un tavolo... Ho detto una cosa, sono tranquillo però mi baggio il microfono. No dai. La nota positiva è, ti vediamo ancora in un final temore importante a WPT, l'altra volta era andata quasi bene, oggi ancora siamo lì lì, raccontaci un po' anche il colpo sfortunato. Caldo così. Più di uno. Sì, no, premetto che sbaglio quella mano là con K-Jack, che devo mettere 200 per un piatto da un milione e due. E la devo mettere sempre, la devo mettere sempre e difatti ho perso fiducia di me stesso, della mano che avevo appena perso e poi quando perdi fiducia di te stesso finisce così. Ho perso 280-20 con Jack-Jack 7-7, 7 flop, K-K, 8-8 flop. Sì, non eri fiducioso. Però va bene lo stesso, sono contento di essere arrivato fino a qua e su 400 iscritti mi sembra un bel risultato. Molto. Tra l'altro Marcello, tu sei un giocatore tipicamente live perché ti abbiamo visto arrivare spesso e anche molto avanti. Sia ieri che oggi invece ti sei scontrato con questi ragazzi di grinder anche in fase bolla, c'era un tavolo da te veramente pazzesco, hai aggiustato un po' il tiro, come ti comporti in questo caso con questi giocatori aggressivi? No, in fase bolla io mi chiudo un po', diciamo, per andare avanti sul torneo perché voglio sempre arrivare alla fine, come penso tutti quanti. Ecco, avevo un buon stack per mettermi il punto di chiudermi e l'ho giocata così. Difatti il risultato, sono arrivato al tavolo finale, mi sembra ottimo. Poi la sfortuna vuole così, non ci faccio niente, sono le carte che parlano ragazzi. Tanto bene, complimenti comunque di Rito e ci riproviamo presto direi. Sì, speriamo che la prossima vada meglio, che una volta almeno vada l'assegno, vado fatto in primo posto, che porto a casa il trofeo. Complimenti, grazie mille. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.